Antonio Razzi ha tutto tondo in Abruzzo Gol con l'ex senatore, ora sempre più nei panni dello showman, ospite in prima serata su Telemax nella fortunata trasmissione sportiva dedicata ai dilettanti. Si avvicina il Natale, l'atmosfera diventa soft e l'occasione è stata buona per trascorrere 60 minuti insieme a Razzi da Giuliano Teatino. Emigrato in Svizzera, bravo operaio tessile, eletto poi deputato nel collegio estero con l'Italia dei Valori di Di Pietro, passare tra mille polemiche alla corte di Berlusconi, nel classico inciucio all'italiana, guadagnarsi il secondo mandato da senatore e conseguente prezioso vitalizio nelle liste di Forza Italia. Il mutuo della casa è ormai pagato, primo obiettivo, avanti tutta, ballando sotto le stelle. Uomo tenace, furbo, amato ma anche discusso il buon Antonio che nel salotto di Tiziano Coccia si è lasciato andare a confessioni, progetti, amarcord, idee lucide o strampalate che siano, ma sempre idee. Lui, Antonio Razzi, è abitué in Nord Corea, amico del dittatore Kim, al quale ha ribadito sempre stima, gli darebbe il Nobel per la pace insieme a Trump per il parziale disgelo, merito, come dice, della sua istancabile opera di mediazione. Le provocazioni nucleari, ultima in ordine di tempo, proprio qualche ora prima della diretta, utili deterrenti per allontanare ogni minaccia, del resto il popolo nordcoreano vive felice all'ombra del suo caro leader. Selfie e sorrisi anche con Assad, ma sempre per il buon nome e lo sviluppo della mataterra. In ogni viaggio, in borsa, Razzi Antonio porta un magnum di Montepulciano, espressione d'Abruzzo che è sempre bisogna far gustare. Poi il ballo con la bella Simona, le foto a raffica di una vita sicuramente originale, il sorriso razziano che mai manca, rifrattario a qualsiasi provocazione, la convinzione di aver operato bene in politica, nonostante il gran rifiuto del partito di candidarlo alle ultime politiche, trombato insomma, ma guai a toccare il cavaliere e il suo bunga-bunga. Antonio Razzi dunque, emigrante italiano, abruzzese, sicuramente mai banale, che fa sorridere ma anche irritare, forte e gentile si direbbe, furbo e volta gabbana insieme, idolo nelle imitazioni di Crozza e che sa cantare a squarciagola l'inno del famme campà. Di tutto in po' insomma, quel diavolo di Razzi Antonio. Oye, siamo tutti rumore! It's time!